carissimi amici benvenuti in questa applicazione complimenti per esservi decisi di iniziare questo cammino che san luigi maria grignon di montforte insegnato alla chiesa un cammino attraverso il quale l'anima libera decisa e generosa potrà consacrarsi a gesù attraverso maria prima di iniziare ti vogliamo dare quattro brevi consigli il primo generosità questa è una via soltanto ed esclusivamente per coloro che vogliono davvero tendere alla santità non è che devi adesso essere un santo devi solo impegnarti a rinnovare sinceramente il desiderio di diventarlo e vedrai che frutti arriveranno presto secondo consiglio ordine cerca di seguire tutte le catechesi senza saltarne o anticiparne alcune prendendo appunti puoi farle ogni giorno ogni settimana e cerca di approfondire al massimo le catechesi attraverso il testo guida terzo consiglio perseveranza san luigi maria vedeva la mancanza di perseveranza come il primo nemico della devozione mariana non scoraggiarti se qualche volta non è seguito una catechesi ma riprendile con coraggio quarto consiglio speranza se segui questo cammino troverai presto i frutti di santità che cerchi amerai di più la madonna e conoscerai davvero il grande amore che ha per te adesso ti spiegherò come usare questa dopo averla scaricata e senza bisogno di dare i tuoi dati personali potrai iniziare il cammino troverai tre sezioni con tutto quanto occorre per il tuo percorso di consacrazione primo le lezioni un indice dei temi che vengono svolti in quattro tappe come indica san luigi maria cliccando su uno di essi troverai i temi che corrispondono ad ognuna di queste tappe cliccando su una di esse troverai un video con una catechesi spiegata da un sacerdote cliccando su leggi tutto troverai il testo guida della catechesi spiegata nel video poi avrai un quiz facoltativo per valutare come è andata la comprensione della catechesi e ancora diverse preghiere litanie che ogni tanto vengono raccomandate e infine il testo guida in versione pdf passerai poi alla sezione consacrazione dove verrai riportato al punto in cui ti trovi secondo l'andamento delle tue lezioni infine puoi chiedere aiuto all'assistente un modo per poter essere guidato qualora avessi qualche dubbio riguardo le catechesi o la consacrazione stessa troverai anche altre risorse per perfezionare ancora questo cammino sul menu troverai diverso materiale che ti potrà essere di aiuto come preghiere testi di san luigi maria la formula della consacrazione nella versione breve e completa sull'angolo a destra troverai un po di considerazioni pratiche per questo percorso se vuoi iniziare parti subito con la prima catechesi la famiglia religiosa del verbo incarnato prega per te per la tua unione con maria santissima che ti porterà ad un'unione più stretta e più diretta con gesù un caro saluto a tutti e reggio maria